cari amici di visione tv peggiora la situazione in ucraina e noi per saperne di più non potevamo non sentire l'opinione di franco fracassi che è uno degli scrittori più prolifici del mondo ha scritto un nuovo libro ve lo faccio vedere immediatamente eccolo qui ucraina dal donbass a maidan cronache di una guerra annunciata ecco franco in apertura ci devi spiegare come fai tu che hai la mano più veloce del west no diciamo premettiamo che tutte le informazioni le ho raccolte nel corso di anni anche perché molte vengono dalle mie esperienze personale di cronista di inviato e dopo di che ho solo ho messo insieme queste informazioni nell'arco di sei giorni e ho tirato giù il libro diciamo che se il settimo ti sei riposato come avrei preso spunto da uno un po più famoso di te ho detto così per favore però che il sono sono rapido a scrivere ecco bene sei rapido però la tua velocità diciamo non va mai a scapito della profondità perché in genere le cose che racconti sono sempre documentate non lasciano mai spazio a fantasi o a conclusioni ipotetiche sono sempre molto precise ecco a proposito di c'è arrivata una mail ieri di un sito che si chiama newsguard dove ci accusano di fare disinformazione sull'ucraina parlando proprio dei rapporti fra la famiglia biden e quel luogo lì ecco ci dicono ma perché non giustificate queste vostre affermazioni che sono prive di qualsiasi veridicità tu intanto sai cosa sono questi di newsguard ne hai mai sentiti no non ho mai sentiti detto questo i rapporti da biden ucraina sono non è che non sono frutto di speculazioni c'è c'è il figlio di biden che è consigliera di amministrazione della più importante società di gas ucraina però lo è ancora o lo era e fino a un anno fa lo era poi non devo dire che nell'ultimo anno non ho controllato però insomma ci sarebbero in ogni caso vuol dire che tu comunque hai degli interessi il problema di biden è un altro biden quando ci fu il golpe nel 2014 gli stati uniti in qualche modo organizzarono quel colpo di stato perché misero a disposizione gladio gladio partecipò attivamente fu decisiva nel successo di quel colpo di stato e in più fisicamente i politici americani parteciparono a quella rovesciamento di del presidente dico fisicamente perché in mezzo a manifestanti che a quel punto erano prevalentemente nazisti e quando dico nazisti intendo persone che proprio che dicono che hitler è il più grande uomo della storia che girano con la svastica e cose di questo genere che leggono il mein kampf cioè nazisti i nazisti sono nazisti quindi è una piazza prevalentemente nazisti l'allora sottosegretario di stato victoria nuland si presentò più e più volte facendo quasi come facendo la croce la croce rossina cioè si presentò con le buste piene di pane le distribuì lei fisicamente manifestanti cioè era impegnata personalmente con anima e corpo in quella cosa e in quella piazza si presentò anche il l'allora adesso non c'è più perché è morto senatore degli stati uniti senatore repubblicano john mccain che anche lui parlò più volte dal palco anche lui diede un apporto personale a quegli eventi dopodiché però una cosa per quanto il sottosegretario di stato è un senatore importante come mccain stessero lì c'era bisogno del dimostrare l'appoggio reale della casa bianca il peso della politica statunitense in quel in quella sede lì e all'epoca joe biden era vicepresidente vicepresidente di solito è un personaggio così decorativo e lui da personaggio decorativo ma da vicepresidente si presentò più e più volte in ucraina parlò alle manifestazioni incontrò gli oppositori quelli che poi sarebbero diventati i sarebbero andati al governo dopo il colpo di stato e il 2 maggio del anzi l'uno maggio del 2014 fece un volo diretto da washington a odessa che è una cosa stranissima c'è già il vicepresidente non è che si sposti così tanto ma che addirittura arrivi in un paese straniero dove già peraltro è stato un sacco di volte senza nemmeno passare per incontrare il non solo il presidente o quantomeno il governo andando dritto dritto in una città secondaria del paese è una cosa strana anche perché lui è andato lì a fare una sola riunione cioè lui ha fatto l'unione e poi se ne è ripartito chi ha incontrato incontrò all'epoca il ministro dell'interno che era l'ex capo di una di queste formazioni più potenti di nazisti e di diciamo di squadracce naziste sia a pravi sector settore destro incontrò appunto il ministro dell'interno incontrò il il prefetto di odessa e incontrò il capo della criminalità locale cioè il mafioso locale che il vicepresidente degli stati uniti incontri già il nazista ma pure il mafioso locale diciamo la dice lunga su sui personaggi fai a sapere che incontrò pure questo capo mafia da dove è venuta fuori questa notizia c'erano ci sono le fotografie ci sono i racconti ci sono le testimonianze sono incontrati tutte e quattro e poi è ripartito il giorno successivo la gli ultra della squadra di calcio di di odessa gli ultra della squadra di calcio di kharkiv le un qualche centinaio di questi sgherri di questi picchiatori di previ sector di settore destro nazisti e la polizia vestita da poliziotto proprio vestita da poliziotto prendono d'assalto i manifestanti antifascisti che stavano manifestando in quel momento lì li prendono d'assalto li consigliano una fuga loro si rifugiano in un in un edificio che era la casa dei sindacati e assaltano un edificio gli danno letteralmente fuoco dopo essere entrati dopo aver torturato le persone dopo averle stuprate gli hanno fatto di tutto ci sono fotografie filmate c'è di tutto su questo e gli danno fuoco e chi era sopravvissuto viene bruciato vivo muore arso vivo in questa strage muoiono oltre 300 persone la più grave strage dell'euro della storia in europa dalla seconda guerra mondiale in poi se si esclude quella di serbrenica in bosnia allora eh Biden che Biden sia legato a questa strage non esiste prova però è eh diciamo qualche indizio però questo rapporto di causa effetto cioè lui va lì e poi arriva sta strage insomma qualche dubbio lo mette i personaggi che gestiscono la strage cioè lui va solo per questo quindi se noi dicessimo Biden conosceva bene gli autori della strage di Odessa diciamo una verità storica esattamente esattamente poi che succede poco tempo dopo ma sto parlando di pochi giorni dopo il figlio diventa il ehm entra nel consiglio amministrazione della Burisma che è la più importante società di gas Ucraina vorrei ricordare che l'Ucraina ha le più grandi riserve di gas del mondo e le più grandi riserve di gas del mondo stanno sotto il sottosuolo ucraino e non si tratta di gas diciamo quello normale si tratta di gas scisto cioè di quel gas liquido che hanno anche gli Stati Uniti eh la Burisma è una società particolare perché eh anche lì va chiarito eh il è una enorme società di gas ma che ha sede a Cipro Cipro è come dire che ha sede alle Antille olandesi insomma ha sede in un paradiso fiscale eh è di proprietà eh il principale azionista è un oligarca che si chiama Kolominski è un oligarca ucraino perché gli oligarchi non sono solamente russi sono anche gli oligarchi ucarini è un però quelli occidentali si chiamano filantropi esattamente che ha tripla nazionalità nazionalità ucraina nazionalità cipriota e nazionalità israeliana perché è un ebreo ed è ed è stato anche per un certo tempo presidente delle comunità ebraiche europee quindi eh anzi presidente del delle comunità culturali ebraiche europee quindi comunque diciamo è un ebreo di peso anche a livello continentale eh questo personaggio è di Odessa e questo personaggio ha messo a disposizione eh per fare la strage un una sua compagnia perché lui ha eh essendo molto ricco eh ha eh a libro paga un battaglione di questi mercenari di questi diciamo ehm corpi paramilitari neonazisti lo so che sembra assurdo un ebreo israeliano che paga però purtroppo è e questo è un dato di fatto ci sono anche le inchieste del del FBI che certificano questa cosa allora eh costui ha messo a parte diciamo non direttamente ma attraverso un suo un suo battaglione ha partecipato alla strage di Odessa lui è il proprietario della Burisma e lui fammi capire bene c'è una triangolazione tra Biden Burisma e la strage di Odessa cioè sono tre elementi che si incrociano sempre esattamente esattamente in più eh nella Burisma entra anche un altro personaggio entra anche il braccio destro di Kerry Kerry era all'epoca il ministro degli esteri degli Stati Uniti il suo braccio destro nonché miglior amico del figlio dai tempi dell'università e diventa anche lui consigliere dell'amministrazione della Burisma è come se gli Stati Uniti dal punto di vista politico vicepresidente e eh sottosegretario eh scusate e ministro degli esteri abbiano messo il cappello sul gas ucraino sul gas scisto ucraino che è la più grande riserva di gas del mondo non so se sia stata una cosa diretta a luce Biden rappresentava se stesso o rappresentava il governo degli Stati Uniti in quel momento lì non non lo so però questo è quello che è accaduto e questo Kolominsky non solo è accaduto questo quando a un certo punto un procuratore eh di Kiev si è messo a indagare su questa vicenda eh questo procuratore è stato sostituito improvvisamente allora eh Biden Joe Biden nel corso di uno di perché non so se sai Biden è famoso per le sue gaffe allora eh nel corso di di un eh di uno di questi incontri pubblici di qualche fondazione adesso non mi ricordo quale fondazione Biden disse dal microfono per per vantarsi io sono così potente che sono riuscito a far rimuovere il procuratore ucraino che stava indagando su di me cioè si vantò di questa cosa chi pensava di essere Berlusconi non lo so però si vantò di questa cosa allora quindi eh accade questa cosa che dalla parte mia si chiama corruzione insomma anche se non c'è nessuna cioè è evidente che anche se per dire la realtà Berlusconi non riusciva a rimuoverli riusciva più la sinistra a rimuovere diciamo il PM che non piaceva Berlusconi mica ci provava lui diciamo però gli altri ci riuscivano no ci è riuscito pure qualche volta Berlusconi comunque al di là di questo eh eh diciamo c'è questa questa forma di corruzione legata a questi episodi legata al golpe legata alla strage e così via e eh il quando c'è qualcuno che indaga e non so se ti ricordi Trump ha molto puntato sia la sua campagna elettorale del 2016 sia eh tutto il suo quadriennato sia la campagna elettorale del 2020 ha molto puntato anche su questa vicenda Ucraina è legata a Joe Biden eh però eh nel frattempo il il procuratore Joe Biden e quindi col potere degli Stati Uniti America è riuscito a farlo rimuovere allora c'è un'altra cosa importante perché Kolominsky non è un personaggio qualsiasi ho già detto che è un oligarca molto importante che ha tripla cittadinanza che è proprietario della Burisma e di tantissime altre cose ma è l'uomo che ha finanziato tutta la campagna elettorale eh di Zelensky cioè Zelensky sta lì grazie a lui e insomma interessante e e quindi ma queste cose ci sono tutte nel tuo libro Franco e sì e e e e quindi c'è un eh perché Zelensky è ebreo esattamente come ebreo Kolominsky cioè si si incontrano anche da quel punto di vista lì però questo fa capire anche il ruolo di Zelensky cioè perché improvvisamente Zelensky vince viene messo lì però alla fine non cambia nulla e perché poi nel frattempo Joe Biden diventa presidente eh degli Stati Uniti quindi è come se non so come dire il triangolo di cui ha parlato è come se avesse funzionato in qualche modo e eh cambiando gli attori fosse diciamo le posizioni degli attori alla fine la la sceneggiatura fosse rimasta quella e vorrei ricordare che Kolominsky è una persona eh definita dall'FBI un criminale insomma tutto il quadro è molto preciso forse sulla base diciamo di questa di queste certezze Zelensky pensava di trascinare pensa ancora di trascinare la Nato in guerra cioè lui dice come t'abbiamo corrotto t'abbiamo pagato abbiamo riempito di soldi tuo figlio continuiamo a farvi dare il sacco di soldi sei venuto qua abbiamo mandato le squadracce ad Odessa e adesso questi menano e tu che fai fai vinta di non conoscerci cioè secondo te questo è il processo mentale che porta Zelensky a gridare dappertutto ehm chiedendo l'aiuto della Nato? Credo di sì credo di sì perché lui fa parte di quel gruppo di potere in Ucraina. Senti Franco nel tuo libro parli anche di ho visto l'indice ehm ehm e però la tua capacità rapidità di scrivere è superiore alla mia di leggere per cui non ce la faccio mai diciamo cioè ma non è non è una mancanza di volontà è proprio una questione di come la velocità del suono cioè uno o la supera o no ehm io non ce la faccio ehm ho visto che dall'indice questo sono riuscito a leggerlo hai hai parli anche affronti anche un tema attualissimo quello dei biolaboratori in Ucraina c'è uno scambio di accuse eh feroce la Russia ehm dice di poter dimostrare al mondo come in Ucraina ci fossero degli strani laboratori preparati proprio cioè costruiti proprio con l'obiettivo di mettere in pericolo la sicurezza dei russi. Tu sai niente di questa storia? Sì eh io peraltro questa storia qui l'ho anche scritta in parte nel libro I Misteri di Wuhan. Allora ehm partiamo dall'inizio. Nel 2005 l'allora presidente George Bush decide di di costruire di finanziare una rete di laboratori sparsi in tutto il mondo di biolaboratori eh ufficialmente per fare la guerra al terrorismo vorrei capire come si combatte il terrorismo facendo un laboratorio che produce armi biologiche comunque insomma fatto sta fa cosmette su questa rete la finanzia questi biolaboratori inizialmente si sapeva che fossero circa un po' più duecento invece sta emergendo essere dalle dalle ultime informazioni sono oltre trecentosessanta sparsi per il mondo. Allora dove lì intanto che cosa fanno questi biolaboratori? Producono armi biologiche esattamente come il laboratorio di Wuhan né più né meno fanno questo eh producono armi e per esempio anche alla SARS ma non solamente la SARS all'Antracee, all'Ebola, all'AIDS eccetera eccetera eccetera. Questi biolaboratori sono laboratori militari eh degli Stati Uniti d'America quindi sono territorio statunitense. Nessuno può entrare là dentro se non con l'autorizzazione del Pentagono perché essendo militari devono essere autorizzati dal Ministero della Difesa. Allora eh i gli americani hanno eh non so se per una questione di sfida aperta o proprio perché volevano fare qualche cosa hanno letteralmente circondato la Russia di questi biolaboratori molti dei quali mettendoli lungo il confine l'hanno messi in Ucraina, l'hanno messi in Georgia, l'hanno messi in Azerbaijan, l'hanno messi in Kazakistan, in Tajikistan, in Kyrgyzstan, in Uzbekistan, in Turkmenistan, li hanno messi ovunque per in maniera tale da ehm da poter eh diciamo solcare, da poter segnare, marcare tutti i confini con la Russia. Allora in questi biolaboratori, a parte il fatto che eh questi laboratori hanno continue perdite, continui incidenti, poi se siano incidenti evoluti o meno non lo so, ma questi incidenti hanno causato nel corso degli ultimi anni, visto che sono diciamo lungo il confine russo, hanno eh causato una serie di piccole epidemie in Russia che hanno provocato centinaia di morti ognuna di queste epidemie. Eh al di là di questo, quello che è emerso, ma non adesso, era già emerso da diversi anni, eh che questi biolaboratori fanno anche qualcos'altro. Eh queste cose qui sono emerse perché il laboratorio che si trova a Tbilisi, in Georgia, ehm i servizi segreti russi sono riusciti a mettere le mani sui documenti interni di quel laboratorio. Le hanno rese pubbliche, le hanno resi pubblici questi documenti. Ehm cosa si racconta in questi documenti? Innanzitutto che almeno nel laboratorio Tbilisi si facevano esperimenti sugli esseri umani. Cioè sperimentavano queste armi su dei volontari. Eh e c'era anche un elenco di 73 volontari morti a causa di questa eh volontario, non so se fossero volontari o barboni raccattati per strada a forza, non ne ho idea. Infatti sa che hanno ucciso 73 persone solo per fare questi esperimenti. Eh dopodiché eh l'altra cosa che stavano facendo era quella di mappare il DNA dei russi. Eh mi sono informato e ho scoperto, mi sono informato da chi fa queste cose di mestiere e ho scoperto che eh la nuova frontiera delle armi biologiche sono le armi al DNA. Ovvero eh delle armi che colpiscono un certo tipo di persone. È come se facessero un'arma per uccidere me e te. Tutti gli altri, un'arma biologica, un virus. Eh tutti gli altri che ci circondano non vengono proprio toccati a questo virus, solamente io e te moriamo. Immagina una cosa del genere. E ovviamente queste cose qui hanno fatto molto preoccupare i russi, anche perché in Ucraina si pensava, io nei misteri Wuhan ho scritto che c'erano, erano stati costruiti 17 laboratori, non uno, 17 laboratori in Ucraina, eh militari americani e questo dava anche il senso di come fosse indipendente l'Ucraina, perché l'Ucraina non sta nella Nato. Cioè l'Ucraina è un paese neutrale, gli americani non avevano nessun titolo per appropriarsi di pezzi del territorio ucraino, per farli loro, per metterci i laboratori biologici, ehm che producevano armi, che sono peraltro pure illegali. E allora si pensava ce ne fossero 17, invece adesso si è scoperto che sono 30, quindi gli Stati Uniti hanno costruito ben 30 laboratori che fanno armi biologiche in Ucraina. I russi, quando hanno invaso l'Ucraina, una delle cose a cui hanno puntato sono proprio questi biolaboratori, perché loro hanno molta paura di questi biolaboratori, hanno denunciato più volte la cosa, addirittura la Russia una volta è arrivata a denunciare la presenza di questi biolaboratori al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, chiedendo espressamente che venisse istituita una commissione delle Nazioni Unite che andasse a ispezionare questi laboratori e poi a chiuderli, perché non c'era, gli Stati Uniti non avevano nessun titolo per aver, per metterli lì e per fare quegli esperimenti. Hanno ovviamente i russi puntato questi biolaboratori, ne hanno presi molti, gli Stati Uniti hanno continuato a negare l'esistenza di questi biolaboratori, a un certo punto di fronte all'evidenza sono stati non solo costretti ufficialmente ad ammettere che esistono questi biolaboratori, ma presi dal panico perché evidentemente sanno cosa c'è là dentro, hanno incominciato a lanciare appelli alla Russia dicendo fate attenzione perché se no succede un casino. Quindi diciamo non si può dire che non sapessero ecco quello che, come la Russia viveva diciamo questo accerchiamento. Racconti anche in questo lavoro i prodromi della guerra, cioè cosa accade dopo il golpe di Maidan fino a febbraio di quest'anno, cioè racconti un po' l'evolversi della situazione in questo limbo che va dal golpe fino alla guerra vera. Sì che poi non è un limbo, in realtà in Ucraina c'è la guerra da otto anni, uno non considera questa cosa, ha provocato più di 14 mila morti questa guerra da otto anni, quindi non è uno scherzo. Sono otto anni che l'esercito ucraino bombarda la Repubblica Autonoma di Daniesk e la Repubblica Autonoma di Lugansk, anzi Repubblica Popolare Daniesk e Repubblica Popolare di Lugansk che noi conosciamo come Donbass. Non solo sono otto anni che gli sta facendo la guerra, ma affiancato all'esercito ucraino c'è un battaglione di fondamentalisti islamici dell'ISIS e ci sono anche molti battaglioni, non uno perché si parla sempre del battaglione Azov, ma ci sono molti battaglioni di nazisti che sono inquadrati dentro le forze armate ucraine. Molti sono nazisti ucraini, ma ci sono anche i nazisti e vengono tutta quanta dal resto d'Europa. E su questo vorrei dire una cosa, perché io ho intervistato, lo racconto peraltro nel libro, ho intervistato uno di questi nazisti che si chiama Fontana, non mi ricordo se era di Milano o di Torino, comunque insomma, per dire il personaggio, questo qui era uno molto amico di Stefano delle Chiaie, il più famoso, il più importante, neofascista della nostra storia e proveniente della storia internazionale dal dopoguerra in poi, è stato implicato in tutte le stragi possibili e immaginabili in Italia, in dittature sudamericane, in squadrono della morte, in squadrono della morte in Spagna, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, questo nazista era amico suo e lui parte tra i volontari per allorarsi nel battaglione, in uno di questi battaglioni nazisti lì in Ucraina, partecipa alla strage di Odessa, fa una serie di altre schifezze e le racconta, cioè non le nasconde, le racconta, dopodiché questo personaggio sono otto anni che fa avanti e indietro tra Ucraina e Italia. Allora, vuole ricordare che andare a combattere in un paese straniero è reato, è un reato, cioè si viene messi sotto, si viene indagati dalla magistratura. Bene, Fontana non è stato mai indagato. Allora io mi chiedo, visto che quelli che vanno in Siria, quelli che sono andati altrove, sono stati tutti quanti indagati e processati, Fontana no. Mi sono chiesto questa cosa, mi sono messo a cercare e ho scoperto che Fontana è un collaboratore dell'Aise, cioè dei nostri servizi segreti esteri. Allora, questo vuol dire che i nostri servizi segreti, l'Italia ufficialmente, se sempre tenuta fuori dal conflitto ucraino, in realtà ha quantomeno chiuso un occhio, se non invogliato, una serie di nostri concittadini ad andare a combattere a fianco agli ucraini contro i russi del Donbass. Mi sembra una cosa grave. No, lo è grave. Così come è grave quello che è successo a noi ieri, perché ci è arrivata una mail da parte di questo News Garden, che è un sito, sarebbero di quelli che finanziati per scoprire le fake news degli altri, dove ci fanno delle domande sul perché noi abbiamo alcune posizioni, tipo quelle che stiamo affrontando noi. Noi pure ci siamo informati su questo News Garden, abbiamo visto che uno degli advisor di questo sito è l'ex direttore della CIA, Michael Hayden, che in un rapporto di Human Rights viene definito uno dei più, è stato probabilmente, dicono, il funzionario dell'amministrazione Bush, che ha ingannato più costantemente il congresso e l'amministrazione. Ora, che gruppi come questo, che hanno al loro interno ex direttori della CIA dell'epoca Bush, che vengono definiti come tra i più, insomma, tra quelli che hanno ingannato di più il congresso, pensino a noi? Secondo te, secondo la tua esperienza, che conosci i collegamenti tra informazione avvelenata, servizi, cosa significa? Allora, significa che la macchina, cioè in questo momento è in atto una macchina della propaganda senza pari, o meglio, identica a quella che c'è stata per il Covid, cioè è stata semplicemente spostata e adesso si occupa di Ucraina, ma è una macchina della propaganda spaventosa. Allora, io dedico l'intero primo capitolo alla propaganda e la disinformazione sulla questione ucraina e racconto di… ho scoperto una storia che secondo me è una storia brutta. Allora, c'è un ex berretto verde che si chiama Joel Harding, questo berretto verde è stato, diciamo, ha cambiato lavoro, è diventato dipendente dei servizi segreti ed è stato messo a capo dell'ufficio guerra psicologica della CIA. La CIA è un ufficio guerra psicologica che ha condotto tantissime guerre nel corso della seconda metà del Novecento e… ed è quello che ha anche prodotto esperimenti tipo MK Ultra, quello dove condizionavano, diciamo, trasformavano la mente delle persone, trasformandoli in una sorta di robot, di robot soldati, insomma. Poi magari ci sarà un'altra occasione per parlare di questa cosa. Però è direttore di un altro ufficio che si chiama Information Operations, IO, e si occupa di propaganda… scusate, di guerra cibernetica, ovvero di guerra su internet. Che cos'è la guerra su internet? Non è tanto staccare, far saltare internet a qualcuno, quello non è questo. La guerra su internet è la guerra di propaganda attraverso tutti gli strumenti che ti può offrire internet. Quindi distruggere i tuoi avversari su internet. E in questa cosa qui, francamente, ci vedo anche il messaggio che tu hai ricevuto e questo sito, questo gruppo che in qualche modo ti sta chiedendo conto di qualche cosa. Allora, Harding, il 28 febbraio del 2014, quindi subito dopo il colpo di Stato, sbarca in Ucraina, cioè viene spedito in Ucraina. A fare che cosa? A creare un'altra, un'organizzazione non governativa ucraina che si chiama IEO, che è Operation Inform and Influence, che ha il compito di costruire completamente tutto il sistema informativo ucraino, cioè in Ucraina non c'era un ministero dell'informazione, lui crea il ministero dell'informazione, mette i suoi uomini al ministero dell'informazione e lui ha come obiettivo quello di mettere all'angolo la Russia, cioè lo scopo suo è solamente questo. Se posso vi cito un passaggio suo che è impressionante, che ha scritto in un documento, che ti fa capire che cosa sta facendo da otto anni questo personaggio lì in Ucraina e quanto è pericoloso, insomma, quantomeno per la verità una cosa del genere. Allora, lui scrive in un documento interno, le fotografie possono essere ritoccate come i video, i testimoni oculari devono essere trattati come agenti stranieri sospetti. I reportage non sono affidabili, anche se la persona più affidabile al mondo a dire qualcosa si può sempre bollarla come speculazione, faziosità o come un agente pagato dai russi. Che cosa faremo? Sradicare, rifiutare, corrompere, ingannare, usurpare o distruggere le informazioni. Le informazioni non va dimenticato, sono l'obiettivo finale della cyberguerra. Tutto questo per avere un impatto diretto sul processo decisionale dei leader avversari e quando parlo di avversari mi riferisco ai leader europei, quindi non quelli ucraini, quelli europei. Bisogna sviluppare una strategia di contenimento informatico dei media russi e dirigere barriere per controllare l'informazione ucraina. Mi sembra una dichiarazione di guerra nei nostri confronti. A proposito di questo, la propaganda occidentale sulle bombe all'ospedale pediatrico di Mariupol, ti sembrano nascere dentro questo meccanismo? Mi sembra nascere esattamente dentro questo meccanismo. Sì, quindi sono una traduzione pratica di questi concetti? Sì, anche. Di disinformazione pura. Bene, facciamo rivedere in conclusione il libro di Franco. Eccolo qui, Ucraina dal Donbass a Maidan. Questa intervista la spediremo, pure la faremo vedere a questo Angelo Paura, che Paura non ci fa. Insomma, Paura, ti chiami già così, poi Angelo della Paura, pure Angelo ti hanno chiamato, già poi di cognome Paura. Ti chiamano pure Angelo? Insomma, non so se il tuo padre deve essere un tipo scherzoso. Comunque, Angelo Paura, se gli volete scrivere, la sua mail è angelo.paura.newsguardtech.com Ecco, chiedetegli conto del fatto se lui sa che tra gli advisor di chi gli dà da lavorare c'è questo ex direttore della CIA che è stato più volte citato dall'Associazione per i diritti umani come si chiamava questa qua? Eccola qua, Human Rights. Ecco, chiedetegli, mandategli una mail vediamo che cosa vi risponde. Nel frattempo comprate il libro di Franco che evidentemente, insomma, non ti leggi Angelo Paura, sennò certe domande non le farebbe, Franco. Vabbè, glielo mandiamo pure a lui. Ma lei non le farebbe perché già le sa queste. Le sa, no, però le imbroglia perché paura, è già uno che si chiama così. Vabbè, comunque, peggio per lui. Grazie a Franco Fragassi, comprate il libro. Ecco, noi non faremo in tempo a organizzare la prossima intervista. Ma è stato come si compra il libro. Ah già, come si compra ogni volta non mi dimentico. Dillo tu, Franco. E l'unico modo è scrivermi un'e-mail alla mia e-mail personale francofragassi1 a numero chiocciolagmail.com francofragassi1 chiocciolagmail.com Bene, grazie ancora. Franco, tanto ci rivediamo tra una settimana a presentare il nuovo libro. Ok? Va bene. Ciao. Bene, cari amici di Visione TV, grazie per averci seguito anche in questa intervista. Scrivetegliela davvero una mail a questo Angelo Paura. e dirgli, ma scusa, ma tu che fai? Che lavoro? Perché c'è questo ex uomo dei servizi? Peraltro capo della CIA all'epoca dell'amministrazione Bush, insomma, tante cosine in giro per il mondo, dall'Iraq all'Afghanistan, le ha combinate. Insomma, chi siete? Ecco, mandategli una mail, vediamo che cosa vi dice. Grazie, cari amici. Ecco, volevo sapere chi ci finanzia. Ci finanziate voi con le vostre donazioni, potete aiutarci ai numeri che la Regia ha mandato in sovrimpressione oppure andando sul nostro sito www.visionetv.it. Altri finanziatori non ne abbiamo, con buona pace, insomma, di queste persone che evidentemente soffrono di sindrome proiettiva, cioè pensano che tutti ragionano come loro e come noi non siamo come voi. Grazie a tutti, una buona giornata.